Allora, ci troviamo a Kawaguchi, come ora abbiamo appena trovato un piccolo campietto che non vi dovrei farvi vedere. La cosa particolare è che bisogna salire delle scale ripidissime e ora infatti senza l'ausilio di questa luce saremo totalmente al buono. Ora facciamo le scale per salire e andiamo a vedere cosa si nasconde in cima a questa piccola collinata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.